Era già il confidi più grande dell'Emilia-Romagna con 25.000 associati. Ora FIDER punta a replicare l'espansione sulle Marche. Un obiettivo ragionato su una base già consolidata di 2.000 soci, con attenzione diversificata dal turismo alla manifattura, dal commercio ai servizi. Un progetto di ampliamento presentato nella sede pesarese FIDER di Via Gagarin. Le Marche è uno dei nostri territori prioritarie e il nostro consolidamento è quello proprio di andare ad assecondare già una base associativa di 2.000 soci, dei 25.000 soci nazionali, dalla costa all'introterra, dal nord della regione al sud. Abbiamo fatto una valutazione sulle tipologie di impresa e abbiamo riscontrato tantissime potenzialità. Quindi non un mercato saturo da cambiare, ma sicuramente un mercato nuovo da far crescere. Snodo cruciale delle competenze FIDER, il lavoro sartoriale cucito su misure delle aziende in un accompagnamento sulle specifiche consulenze, le relazioni bancarie e le attuali opportunità di intercettazione fondi. Confidi di una volta limitava la sua attività al rilascio della garanzia. Oggi il nostro confidi, però non tutti i confidi, il nostro confidi in particolare affianca al rilascio della garanzia anche il rilascio dei servizi per accedere a qualche tipo di contribuzione pubblica di cui l'impresa ha molto spesso bisogno. Quindi quello che noi vogliamo comunicare alle imprese è questo, che se si rivolgono a noi le imprese, si rivolgono a un soggetto che ha degli ottimi rapporti con il mondo bancario, conosce quasi tutte le banche e sa indirizzare l'impresa verso la banca che in quel determinato momento offre il prodotto commercialmente più indicato per soddisfare il bisogno dell'impresa. La stessa cosa vale per la contribuzione, l'accesso ai contributi. Ecco, molte imprese non sanno nemmeno di poter accedere ad alcuni contributi, non li conoscono. Ecco, noi li conosciamo tutti, abbiamo una struttura che con grande anticipo sta attenta a tutto quello che c'è e tutto quello che ci sarà in termini di contribuzione in poco tempo. Il sostegno al turismo resta uno dei core business cruciali con un salto dalla base pesarese verso il centro-sud. Le marche sono una regione dove c'è una potenzialità nello sviluppo turistico molto importante partendo da Pesaro dove noi abbiamo la nostra filiale, una delle filiali più importanti della regione, il nostro fiore all'occhiello che cercheremo di replicare anche sulle altre province delle marche fino ad Ascoli Piceno. Chiaramente il turismo quest'anno dopo due anni di pandemia è il settore che ha subito una contrazione maggiore e quindi ci saranno contributi, fondo perduto, per imprese che cercheranno di investire. Non possiamo perdere l'occasione di ridare centralità a quella che è la nostra, soprattutto, costa. Anche in un discorso dell'entroterra, molti investitori stranieri stanno acquistando agriturismi, stanno riqualificando, quindi gli strumenti sono contributi, agevolazioni per riqualificazione energetica, antisismica, efficienza energetica.